Qui avevamo un laboratorio molto grande, è stato trasformato in due spazi e in due classi, cioè capaci di gruppi classi abbastanza numerose e anche un magazzino abbiamo ricavato. I lavori sono prezzo che completati, abbiamo rivisto gli impianti, fatto i tramezzi, già le tinteggiature mancano soltanto le porte, le porte interne, quindi per il 14 anche prima saremo pronti a consegnare all'istituto questi due nuovi spazi classe. Si buttano giù muri, si costruiscono tramezzi, si rimodellano gli spazi. È il vicepresidente della provincia di Arezzo, Angelo Piomboni, a guidarci all'interno degli istituti superiori a Rettini, dove l'ente ha realizzato lavori per oltre un milione di euro, tutto per adeguare le scuole, alcune in edifici storici, alle norme anti-covid. Qui ci troviamo all'interno dell'istituto Buonarroti. Sì, ecco, questo per esempio è un locale che adesso è un locale idoneo a gruppo classe che permette anche agli studenti di avere quel distanziamento che il covid ci impone. Precedentemente era tramezzato, avevamo un disimpegno, si vede dai segni a terra, un disimpegno in questa zona che dava accesso a due stanze che però non potevano contenere nessuna delle due, un gruppo classe effettivo. Quindi ecco, sono lavori che sicuramente non sono soltanto... Sì, oggi si fanno in emergenza covid, però daranno risposta anche in futuro e quindi non sono lavori ai quali dovremmo rimettere mano. Lavori che l'ente ha potuto realizzare grazie ai propri fondi e a quelli messi a disposizione dal governo centrale. Tra i fondi che sono arrivati per l'emergenza covid e gli oltre 380 mila euro che la provincia ha messo il proprio bilancio, si parla di interventi di oltre un milione e 180 mila euro. Quindi interventi importanti, sia da adeguamento legato al covid, ma anche dal punto di vista poi di rifacimento degli infissi, di miglioramento della situazione energetica, di messa in sicurezza, quindi interventi importanti perché ricordiamo che la maggior parte delle scuole superiori in generale d'Italia sono scuole degli anni 70, quindi hanno bisogno di una manutenzione particolare e che in questi ultimi 5 anni a causa della legge del Rio è stata fortemente trascurata. I lavori sono tutti in corso, la metà dei soldi investiti permetterà di vedere la realizzazione dei lavori prima del 14 di settembre, quindi i ragazzi entreranno in aula con degli interventi già finiti, l'altra parte degli interventi invece verrà finita entro ottobre e in parte a fine dell'anno perché gli interventi economici arrivati da parte del Ministero sono stati molto scaglionati nell'arco dell'estate quindi tra te che l'ultima opportunità che è stata data agli enti è quella di partecipare a un bando che si è chiuso il 26 agosto relativo alle allocazioni e all'acquisto e al noleggio di strutture temporanee. Oltre ai lavori di adeguamento per recuperare spazio tra le idee c'è anche quella di utilizzare edifici di proprietà pubblica. Abbiamo partecipato anche a questo bando, abbiamo richiesto diversi interventi che permetteranno di avere un importo totale di 1.333.000 euro se ci verrà consentito tutto quello che noi abbiamo richiesto. Questo permette di rispondere alle esigenze che sono state segnalate da dirigenti scolastici i quali secondo direttiva ministeriale prevederanno una didattica mista quindi in presenza e in parte a distanza secondo però della volontà dirigenziale in base naturalmente alle disponibilità degli spazi che hanno e alle modalità che hanno ritenuto naturalmente a loro giudizio più idonee però è fondamentale pensare che il 14 si rientra tutti a scuola e che ci si rientra in una modalità sicuramente diversa con tutta una serie di misure di sicurezza anche oltre a degli interventi fondamentali perché sappiamo quanto sarà delicato quest'anno la ripartenza.